I due manichini donati al 118 dall'Associazione Gianfranco Lupo di Pomarico serviranno alle attività di simulazione per la formazione di professionisti e volontari. L'iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede del DIRES di Potenza. Una donazione che per noi diventa fondamentale, che può diventare un punto di partenza perché il 118 nel suo ruolo istituzionale ha anche il compito di trasferire conoscenze sul territorio per la prevenzione della morte improvvisa e soprattutto della morte arittimica che può essere gestita agevolmente con la defibrillazione, con le manovre di rianimazione che vengono insegnate e quindi anche proprio la necessità di avere questi presidi, i manichini, che possono essere di ausilio, anzi sono di ausilio, a trasferire le informazioni ad operatori laici perché in un momento critico, quale può essere quello dell'arresto cardiaco e consideriamo che in Italia noi abbiamo 60.000 arresti cardiaci all'anno l'intervento di operatori che sono formati, sono allenati a saper utilizzare il defibrillatore e a rianimare le persone colpite da arresto cardiaco possa essere efficace e questa è una strategia certamente vincente. L'associazione Lupo è stata fondata nel 2005 dalla famiglia del piccolo Gianfranco morto a causa di una leucemia. Nei prossimi mesi il sodalizio festeggerà il raggiungimento del milione di euro raccolto in questi anni grazie al grande cuore della comunità lucana e nei prossimi mesi saranno portati avanti gli altri progetti in campo a cominciare da quelli per la cardioprotezione. A margine dell'incontro al quale hanno preso parte il commissario dell'ASP di Potenza Giovanni Berardino Chiarelli ed il presidente dell'associazione Gianfranco Lupo, Michele Lupo, il direttore del DEU si è soffermato sui soddisfacenti risultati registrati dal servizio di Elisoccorso Notturno attivato nel maggio 2017. La Basilicata si attesta tra le prime tre regioni in Italia che ha messo in cantiere il volo notturno, che sta diventando lo standard e la ricerca continua per tutte le altre regioni italiane. Noi abbiamo cominciato in modo lungimirante proprio all'indomani della riconversione della rete ospedaliera, perché ci siamo resi conto discutendo e confrontandoci con la realtà ospedaliera che le emergenze territoriali in un modello di riorganizzazione potessero trovare una migliore e più puntuale soddisfazione anche attraverso il volo notturno. Grazie a tutti.